eccoci eccoci ragazzuoli eccoci qua come come la va come la va cos'è questa emoticon è una cosa del del sommo buongiorno a tutti grazie mille eddi per l'abbonamento siamo 217 su 250 come vedete a 250 maratona mega maratona a 250 abbonati e dovremmo quasi esserci quasi più o meno come vedete qui abbiamo il loghetto del manga quiz che ho fatto stamattina in fretta e furia perché ho lavorato anche tra l'altro quindi fatto un po così ma sembra carino dai ciao alex miles ciao il chic ciao agli stronzoli di animati time stasera distruggeremo uno di loro just poffo herbert scooper kr d4 intanto vi ricordo mentre aspettiamo che arrivi il nostro italo che sicuramente sarà ancora dormendo come minimo ditemi prima cosa se sentite rumore perché c'è un rumorino da qui fuori ma non credo che senta tantissimo dovrebbe essere accettabile e intanto se volete mandate le vostre domande per me e per italo ad herbert scooper 89 che trovate in chat gliele mandate a lui in privato lui prenderà le prime 20 che arrivano e poi le posterà appunto per farle a me e ad italo come arriveranno naturalmente lui le farà in ordine una alla volta una me e una ad italo e faremo questo contest questo contest dove io ovviamente grazie alla mia decennale esperienza grazie al fatto che che sono un figo distruggerò italo cioè questo è proprio ovvio è poco ma sicuro è poco ma sicuro ciao domex ciao paolo sculli ciao luca il polaretto ciao ld bens ciao marzantar abbiamo anche sommo buta evviva 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 delzine 1499 matteo 47 no andrew sirsilos seguite animati time twitch fra l'albanese che chiede di insultare italo da parte sua ovviamente questo verrà fatto a me italo già è già in background allora ora lo facciamo entrare mi sta facendo segnali dice che è da mo che ci sono in realtà forse l'avevo sentito prima però bisogna farlo soffrire un pochino così magari gli diamo anche tipo uno scoraggiamento mentale capito è tutta una tattica per farlo come si dice un po andare a pezzi psicologicamente no un rumorino metallico come quello del titanic sì forse c'è qualcosa del genere no a parte parte gli scherzi ditemi se lo sentite tardi cioè sì ho letto italo alla sveglia per le 16 mi è venuto lo sentite tardi se lo sentite troppo forte ditemelo che chiudo la porta ma vorrebbe dire venermi vedermi svenire questo quindi buttiamo dentro italo intanto mandate le domande a ervez cooper 89 partiamo col pronostico intanto allora prepara il pool ervez e mentre prepariamo il pool per vedere secondo voi chi vincerà facciamo entrare il nostro ospite italo quizziello non riuscirai mai a scoraggiarmi io ho una scorza d'acciaio che non sarà mai penetrata da niente ci metto dentro il cazzo lo vedi se vuoi se me lo permette già giù però perché sai noi siamo è lo so di fatto lo so bisogna vedere infatti questa cosa qui come ci preferite con lo sfondo dietro o belli grandi ciao italo come stai ma così è figo via bene bene tu tutto bene tutto bene tutto bene tutto bene posto sì 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 in realtà è un troll il fatto che vincerò io ovviamente io non sono per niente ma infatti è importante che tu adesso stia bene perché dopo piangerai e tanto senti mi hanno sconfitto praticamente tutti anche nella scorsa stagione quindi avrò vinto tre puntate forse su otto insomma sono una pippa se perdo lo stai dicendo te lo stai dicendo te vabbè sì ma io ammetterò le mie eventuali corte anche perché in realtà con questi quiz ci sono sempre un po di problemi sono sempre poco consistente perché soprattutto le domande sui nomi a me mi funzionano sempre bravo a me nomi e date nomi e date ma i nomi forse è quella peggiore perché veramente non mi ricordo ma neanche di manga che sto leggendo in questo momento è o magari di roba letta proprio da pochissimo i nomi sono la cosa proprio che mi ricordo zero quindi ragazzi fate domande un pochino più varie non chiedete sempre nomi anni di serializzazione ecco quelli forse su quelli italo potrebbe battermi perché nonostante siamo due tossici io e italo questo si può dire ormai lo sappiamo però si vede che lo dici tu eh io confermo la sua memoria è rimasta più intatta della mia invece la mia ha risentito più della della bozza diciamo gli anni sono in vantaggio per me gli anni sì quello sicuramente cioè sugli anni si può dire poco effettivamente chi sta vincendo 68 per cento italo brutte merda brutte merda di troppe responsabilità così renderete ancora più galattica la mia figura di merda ora ora usa la psicologia inversa naturalmente però vedi io sono maestro stanno usando anche i punti canale per per scommettere su di te hanno già usato tipo 70 80 mila punti canale no ragazzi bravi scommettete sul cavallo morto veramente incredibile senti tesoro che stai leggendo di bello ultimamente e guardo ultimamente ho cominciato del diavolo della speziale che in realtà avevo già cominciato in scan però ho continuato giustamente con j pop mi sta piacendo davvero molto sì che comunque è una storia divertente di per sé che però ti catapulta in una situazione molto particolare è quella della corte dell'area dell'imperatore cinese e ti mette nei panni di una protagonista che comunque ha una certa cultura e una certa educazione che la eleva rispetto a altre cortigiane che non sanno neanche leggere ed è molto particolare vedere il modo in cui lei si integra in questa corte il modo in cui gli intrighi è molto molto interessante comunque come serie secondo me è per un pubblico molto ampio poi alla fine ma è sì 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 quello sicuramente io ti colpito particolarmente mi ha quasi annoiato se devo essere onesto disegni molto carini cioè storia alla fine di ambientazione originale questo lo riconosco però a me non non mi ha preso cioè sin da subito l'ho finito il volume però non mi ha preso tanto no sì a me aveva interessato il fatto di dare attenzione a un lato della storia della cultura cinese che non vediamo così spesso che di solito sì i manga e gli animi hanno preso un sacco dalle leggende cinesi come ispirazione però alla fine non vediamo mai storie proprio di storia cinese del 1100 di periodi molto particolari comunque la cina una storia immensa ha vissuto un sacco di situazioni particolari sul comunismo ma anche più all'unificazione della cina che racconta kingdom per esempio però anche lì in maniera molto battle molto action molto epica ecco che battle sì kingdom che è praticamente all'inizio ancora a detta dell'autore quindi ovviamente paura che già occupa una menzola della mia libreria quindi non so ci vuole una billy solamente per 60 volumi adesso sì in italia no in italia in italia quasi a 50 in giappone a una sessantina e passi ok no perché io ho visto che per esempio adesso sono arrivati a dare il vero nome al protagonista sì sì considera una certa il cognome si considera io ancora ancora non sto leggendo gli ultimi volumi perché ho un paio di buchi tipo sono intorno al 20 perché devo recuperare ancora delle cose che devono ristampare ma il pronostico ragazzi chi ha vinto che a me non me lo è chiarisce il pronostico dopo anche io lo vedo vediamo se la se l'ha segnato qualcuno che dice è chiaro che ho vinto io quello era ovvio è che eri già tipo al 60 per cento dopo un minuto 40 per cento io 60 per cento italo sì le persone pensano sempre che io sia una persona affidabile non lo so perché non so perché do questa impressione non lo so io non so se dai veramente questa impressione a quanto pare allora mi dai quell'impressione sulla cultura manga sì e anime sicuramente non ti reputerei una persona affidabile diciamo in generale che sai che lo puoi sapere no è vero è vero è vero chi mi conosce appunta chi ti conosce dicono appuntato su kirio però io non sembra giusto allora dice erbez intanto che sono arrivate le prime quattro domande quindi ragazzi ne mancano ancora un bel po via via iniziamo a farle magari quando ce ne sono già una decina perché sennò poi andate andate sommobuta invece ha scritto kingdom vero one piece che detta da sommobuta questa cosa effettivamente fa fa impressione fa riflettere eh sì eh sì eh sì assolutamente no è vero che quello che dicevi prima che ci sono tante opere che magari prendono dalla cultura cinese come ispirazione però quindi tipo dragon ball per dirne una ovviamente ispirato a al viaggio in occidente o viaggio anche il son Goku di Tezuka anche il son Goku di Tezuka esatto 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 però sì che raccontano proprio come il diario della speziale non ce n'erano molti quindi infatti come idea sicuramente originale però non mi ha preso qui di tanto non mi ha preso qui di tanto io forse è molto soppopera è esatto a me piace molto quel modello lì perché comunque se sfruttato bene e non alla maniera di beautiful ovvero con mille colpi di scena e mille scapolgimenti di personaggio e ti porta in realtà ad approfondirli bene i personaggi un esempio è game of thrones quello è un buon esempio di soppopera perché lì finché diciamo più o meno alla quinta sesta stagione non viene mandato tutto in vacca era comunque molto interessante vedere i personaggi che semplicemente pavlavano poi dei cazzi loro sì 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 è vero è vero è assolutamente quello sì quello sì quando è fatto bene diciamo che può essere anche un tema sviluppato in ottimo modo io che sto leggendo invece mi ha preso parecchio ah sicuramente caolun mi è piaciuto non so se l'hai letto sì ce l'ho qui sì mi ha mandato jpop abbiamo fatto il post eccetera mi è piaciuto parecchio di dove la verità inizialmente nei primi capitoli non stavo ben capendo dove volessi andare poi soprattutto col finale diciamo diventa un po più chiaro diciamo aspetta il secondo volume eh diciamo che già da da prima del finale si capisce che comunque sarà ci sarà qualcosa di particolare quando viene presentato quel rombo che c'è in cielo che ti fa capire che non sarà semplicemente una storia sentimentale quello quello di sicuro e per me è stata una bella sorpresa perché come dopo la pioggia non mi era piaciuto tantissimo onestamente l'avevo trovato un pochino troppo ridondante nel senso che la classica storia dove c'è lei e anche lui un pochino eh che riescono difficilmente a dichiararsi che ci mettono una vita a confessare i propri sentimenti che è una cosa che ho visto tante volte nei manga e quindi dopo un po certo cioè veramente abituati da orange road che facevamo il tifo e diglielo che ti piace e diglielo puntata dopo puntata basta con sto triangolo ci metti tutti i coglioni quel triangolo o le trombi tutte e due o le trombi tutte e due insieme oppure ti decidi va beh è un bravo vaglione non boffarlo c'è ipoteri psichici però è un bravo vaglione è vero potrebbe potrebbe potuto però anche ipnotizzarle magari no 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 for quello c'è il clofono no 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 come dopo la pioggia in realtà a me era piaciuto ma più che altro nei primi volumi perché secondo me quella ridondanza di cui parlavi tu si sente per di più dopo perché effettivamente non c'è secondo me la libertà di chiuderla come davvero la si vorrebbe chiudere perché non si riesce ad essere davvero controversi nel modo giusto ma è una cosa che in realtà vi trovo più o meno in tutte le opere di questo tipo che affrontano la relazione con tanti anni di differenza per esempio usati drop provava ad essere controverso però non doveva esserlo perché l'apporto che c'era non era romantico ma familiare e quindi il finale è un po una mazzata nello stomaco mentre qui diciamo un po finale da braccino corto che non è molto coraggioso e quella cosa lì a me ne era un po sceso però mi era piaciuto molto il processo di maturazione di entrambi di come lei dovesse affrontare il recupero dopo la rottura della gamba e di come lui invece fosse poi spronato dalla sua determinazione a ritrovare la passione per la scrittura e poi avevo notato una cosa molto interessante che secondo me colunno ha ripreso che era nostalgia proprio sì che viene evidenziata in caoluni in particolare nell'ultimo capitolo che non ho ben capito ho un'idea su cosa sia ma non voglio naturalmente dire di più per per non spoilerare chi non l'ha letto naturalmente quello secondo me tu hai la tendenza a cercare un po qualcosa di buono in tutto quello che legge però vero sì sì è vero cioè nel senso lo faccio anche io è nel senso non è che se ha delle cose di buono non lo dico o le evito però se c'è anche una cosa di buono non è che mi attacco a quello ma dico l'opera in generale non mi è piaciuta più di tanto mentre tu appunti su quella cosa io se trovo qualcosa che mi sembra abbastanza dettagliato abbastanza curato e che riesce a colpirmi mi soffermo abbastanza su quella cosa lì cerco di capire poi perché effettivamente sia stata così ben curata soprattutto magari al resto che non ho notato di cui non ho notato una gran cura ma magari e infatti per dirti questa cosa qui a me aveva colpito però poi per il resto la serie andando avanti mi era scesa abbastanza soprattutto negli ultimi quattro volumi bene o male dove c'è la classica situazione a rimpiattino a rincorrerci e anche lì a me ha stufato abbastanza ma perché abbiamo letto miliardi di cose e te ma infatti la cosa della storia lo sai da cosa mi era dovuta dal fatto che il protagonista di come dopo la vioggia è uguale a goto di patlavor è proprio uguale ma l'autrice sia molto nostalgica di un certo tipo di manga e lo rivedevo tanto perché ci rivedevo proprio le atmosfere di un orange road da una certa dopo la pioggia quelle atmosfere proprio anni 80 capì che va bene in orange road proprio sono insuperabili c'è un modo di rappresentarle veramente unico e beh sì anche perché è nato è nato negli 80 quindi le ha proprio assorbite anche se devo dire la verità nonostante ora giornate sia stato uno dei manga a cui sono più affezionato per quanto riguarda i manga della mia adolescenza giovinezza è invecchiato abbastanza male nel senso che comunque è figlio degli anni 80 per la parte positiva ma anche negativamente parlando perché comunque rileggendolo ora diciamo ha delle pecche abbastanza evidenti soprattutto nella lunghezza che magari poteva essere più ok potrebbe essere molto più corto cioè è chiaro che poi sono scene sono situazioni che si ripetono quella del fraintendimento quella di tutte queste cose qui sia la classica commedia degli equivoci sì ed è vero anche comunque ogni situazione la la faceva in maniera abbastanza originale però erano quelle le situazioni che i caro non comprendeva qualcosa di lì lui cercava di farsi perdonare madoka si incazzava non era molto diverse come situazioni però poi c'era il quarto in comodo il ragazzo innamorato di caro che voleva era molto riprenditivo per carità era molto figlio in realtà della commedia romantica deve essere entrato italo uno degli attentatori dell'undici settembre in camera sì sì no in realtà sono è il mio mio amico qui vicino che sta avviando a scurreggia a penso avessi scurreggiato no 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 non lo so perché oggi sono volando molto vicini e di linea non so se veramente vogliono replicare si è sentito di brutto e sommo dice quando partiamo è sommo ora stiamo aspettando le le domande aggiornaci erbez su quante sono casomai possiamo anche iniziare se sono già un bel po di domande nel frattempo volevo recuperare il messaggio di Stefano Roghi che aveva riportato il grandissimo fratello per forza aveva riportato le vittorie mie della scorsa stagione ovvero perché lui se le ricorda tutte io no per quello vado a prendere il suo messaggio ho vinto con jack con otaku inside con sommo buta con la scimmia blu e con al goz mentre è cinque poi c'era stato il pareggio con caverna che era la prima puntata di pareggio ci sta e avevo perso contro michele mari e volpescu e sommo mi sembra un buon record ci sta ci sta ci sta vittorie due sconfitte un pareggio e sommo di block last nell'mma bravo bravo sommo sotto però aveva detto che la mia vittoria era ancora discussa e al bagno degli inquirenti in realtà no è stata una vittoria proprio nettissima sommo buta si sta arrampicando sugli specchi ora insomma se vuoi mio padre lavora al tribunale se vuoi gli facciamo una piccola querela attenzione attenzione maci dice giustamente con caverna non sapevate una sega sì è stato un po ma è stata una live goliardica ho vista quella puntata ho vista prima per documentarmi un attimo come funzionasse bravo bravo eh mi raccomando gli avversari no fate domande diverse che sennò italo se le ricorda quelle di quella puntata lì sì baciamele se ho dimenticato figurati se me ricordo io allora siamo a sette dai allora cominciamo dai cominciamo a farle erbez tanto sette domande da qui che le facciamo arrivano le altre intanto tranquillamente fatene anche più di una eh se vi va tanto ad esempio abbiamo il sommo che ne ha mandate due quindi una per uno assolutamente vediamo c'è chiesto il sommo vediamo ma saranno domande bastardissime sicuramente eh comunque sono non su one piece che non lo leggo devo 50 capitoli ricordo inizia inizia erbez allora intanto diciamo ovviamente come funziona arriva la prima domanda la faccio io a te e te la leggo sì la seconda domanda me la leggi tu a me molto semplice ok non è un quiz difficile non si vince nulla se non la gloria di aver fatto divertire la visibilità ti pago disabilità è quello è ormai no ma neanche quella neanche quella neanche quella oh arrivata arrivata aspetta quindi questa per te quali sono i primi tre classificati nella categoria print manga del next manga awards 2021 e in che ordine ti posso dire che io non ero neanche a conoscenza della categoria print manga del next manga io non ne ho la più pallida idea perché ho letto la classifica una volta distrattamente non mi ricordo neanche quelli che hanno vinto nelle altre categorie quindi proprio non la so eh io non ne ho idea aspetta che risposta anche perché non è una cosa che neanche mi interessa molto sinceramente google man otaku le domande mandale a herbe scooper e no facciamo è solo sui manga solo sui manga non perché ho paura di italo e ce l'ho però si chiama manga quiz facciamo le domande sui manga giustamente questo alla fine è un premio quindi lui diceva mi ha chiesto se si potrebbe mandare domande anche sugli anime capito ah ok che si potrebbe fare puntata speciale ma lì devi avere paura perché è cavolo ma io di anime ne avrò visti 15 veramente quindi ma infatti l'ho visto dalla tua top 10 anime va bene allora immagino che non la sai mettiamo la prima non la so proprio questa la prima x ferita ma queste domande che non penso riuscirò neanche a rispondere mai perché pure se fosse stato il taisho per esempio no ma non te le ricordi oddio io mi ricordo il taisho di quest'anno che ha vinto frieren mi sembra però non me lo ricordo ma già se vai all'anno scorso assolutamente comunque la risposta era oshinoko primo posto secondo posto uma musume sindarella gray e terzo posto proprio musume frieren oshinoko sto leggendo ed è molto interessante penso in realtà che forse la planet l'ha preso oshinoko mi sembra di no frieren la jpop che verrà pubblicato a brevissimo tra l'altro ragazzi c'è anche la variant se volete punto esclamativo amazon la trovate su amazon si molto bello frieren ve lo consiglio e poi c'è una variant anche su come cazzo si chiama quell'altro sito pop store pop store io ce l'ho fisico qua vicino pop store ah e si a bologna è vero è vero è vero ok mi sa che c'è una domanda di quella merda di quella merda di sommo buta la vedi ok si di che razza fa parte il personaggio king di one piece io ovviamente non lo so razza che non è un uomo cioè è boh si attra a bocchietto la domanda eh ma sicuramente conoscendo quella merdaccia del sommo king di one piece vabbè allora facciamo così io mi ispiro al king di di tekken ma è l'uomo tigre è tipo sì esatto diciamo dai è un atti il primo di one piece ma io non mi ricordo sto king sa che boh vabbè dai una tigre diciamo tigre una tigre ma gico dice non si dice razza però no è un luminariano e vabbè sia un rettiliano o un cazziano mandatele anche le risposte ragazzi a ervez eh mi raccomando visto che magari non eh se no mi sa che è difficile andare avanti eh capito sì sì domanda e risposta no però giustamente non l'ho non l'ho detto prima quindi lo ripetiamo mi pare che king era tipo il sottoposto di coso la del nuovo imperatore kaito kaito ah vabbè ho capito ma magari se mi faceva la domanda su kaito me la ricordavo anche in realtà no però pare che era quello poi lo ricordo anche io ma se mi fanno le domande sui comprimari ma che cazzo mi ricordo ragazzi va bene va bene un bel pareggio per ora ho il nome del villaggio fondato da orochimaru in naruto questo è facile il villaggio del suono il villaggio del suono vediamo quello no eh ma mi sembra poi sottoposto i loro esatto esatto primo punto per italo batti il cinque primo punto per italo senti come festeggia e anche anche la mia oddio la riesco a vedere anche la Yamada è felice guardate ma che c'ha tipo un gagliardetto cos'è sì è una coccarda penso sia stata presa quella foto da un festival infatti è la tipica coccarda da festival giapponese sì 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 vedi proprio quella lì è sommo tu fai le domande bastarde lo sai anche che questa era facile questa sì no però io non c'è one piece veramente ho letto pochissimo ok penso sia arrivata da stefano roghi è un onore ricevere questa domanda e lo studio che ha prodotto il primo adattamento anime però di els in questa ma allora stefano abbiamo detto però che non si fanno domande sugli anime appunto no questa è la valida questa non è valida accetta solo domande sui manga herbez e vabbè provo a dirla ma non fa parte del diciamo lo faccio solo per la per la gioia di stefano vabbè anno tipo 98 e lo studio cos'è un po dopo madhouse studio mi sa di sì o madhouse forse gonzo l'anno mi sa un po dopo tipo 2002 2003 addirittura c'è di sì e poi facevo l'ultima tipo nel 2008 2001 gonzo questo abbiamo detto che non va che non era valida quindi siamo ancora mi deve fare ancora la domanda italiano domande solo sui manga ragazzi per gli anime faremo una puntata a parte o un altro format a parte o intanto c'è il nostro fra l'albanese che chiede un abbonamento perché giustamente gli è partita la pubblicità fra l'albanese o fai l'abbonamento o ti becchi la pubblicità in qualche modo tu un paio d'euro mi devo non ti preoccupare lascialo perdere che lui è un accattone anche da noi sono 12 mesi che all'abbonamento non se l'è mai fatto lui si è sempre fatto regalare quindi non ti preoccupare no no ma nel senso se se lui voglio dire se glielo regalano per me va benissimo non c'è mica nessunissimo problema cioè ci mancherebbe è arrivata la domanda caro tirio da sommo buta anche questa quindi in che anno escono weekly shown in sunday e weekly show nel magazine di shogakugan e kodansha l'anno di uscita il debutto penso sì 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 1950 50 aspetta che non voglio sbagliare di occaro che l'ho veramente siamo sul finito degli anni 50 questo è il sunday o tutte e due cioè la sunday di tutte e due no 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 aspetta 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 sono due eh weekly show in sunday e weekly show in magazine sì sì che sono usciti insieme se non ricordo male ok cioè mi stai confondendo italo non so no no io non me lo ricordo quindi no perché mi sembra che sei partito proprio anno preciso eh lo so lo so lo so vabbè 1958 ma io non mi ricordo eh ci ho fatto avevo visto tempo fa per weekly show in magazine no 59 no poveri anche il giorno lui no aspetta devo controllare però no siamo sicuri ma come devi controllare devi fidare del sommo mi fido del sommo mi fido mi fido però controllo va bene eh allora siamo sempre uno pari sì sì pensare che è una cosa che ho scritto tipo mille volte questa cosa qui eh no se una zero una zero per te io non ho indovinato nessuno chiudi per l'ora solo che c'è chiudi per l'ora solo che c'è chiudi per l'ora no devi la finestra sai la mia bolletta sta chiudendo un attimo la finestra che c'è sempre il ride sui accampamenti rakeni qua fuori no ma lo so anch'io che era lo stesso giorno sempai cioè ho fatto anch'io il video dove parlo di shonen sunday in magazine e vabbè ho sbagliato di un anno perché io non mi ricordo le date ragazzi cazzo eh sì ma sono sempre domande davvero fastidiose quelle sulle date no ma poi c'è 58 invece che 59 non è che ho sbagliato di 30 anni qualche troia vergogna kirio vergogna va bene va bene meglio rasawa la parola bandita ha usato qualcuno evidentemente perché non si vede cosa ha scritto mix credo sia arrivata la domanda eh ah non l'avevo vista come si chiama il personaggio specialista nella fumicatura di food wars oddio c'ho dei ricordi però non so se è veramente lui mi pare di ricordare che fosse takumi aldini uno dei personaggi italiani però non so totalmente sicuro francamente secondo me è indovinato c'ho del tempo no no hai tempo hai tempo 5 secondi 1 2 va bene sì dai andiamo proprio questo è l'unico veramente mi viene in mente takumi aldini vabbè tanto se se non la sai nel senso non è che pensando ci ti viene il nome credo eh sì appunto no magari pensavo a qualche sfida però mi viene in mente con la fumicatura anche perché cioè non l'ho letto tutto quanto non ho neanche visto tutto l'animo perché dopo una certa metà tutti i coglioni ma ci mancherebbe io non ho letto manco il primo volume comunque si chiama shun ibusaki ok non era quello non era quello cioè il tuo amico ha chiuso la finestra sta spaccando qualcosa in terra per far casino no sta prendendo le croccantelle che immagino abbia fame le croccantelle le croccantelle va bene va bene quindi siamo ancora 1 a 0 per italo ragazzi no 1 a 1 è quello indovinato tu non l'avevi indovinato no non sa proprio di no ti ho dato un punto così a caso vabbè io ti ringrazio però no decisamente no vabbè vedi proprio memoria a breve termine proprio forse pensavi che l'avessi indovinato perché ho detto l'anno vicino a quello ma non non l'avevo indovinato no 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 è un po' meno casino per piacere allora fai le feste quando quando c'è questo mio amico è venuto a casa mia già da un paio di giorni è un amico di sapri che si è la città della spigolatrice signori balliamo dopo settimana e non solo non solo c'è un bel mare anche la cittadita lo scagnello ovviamente esatto 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 e quindi quindi sta qua da un po in realtà non potevo cacciarlo di casa giustamente per la live scusa mi chiede va bene va bene e credo sia arrivata la domanda a ok fan di foglia che chiede qual è il target del manga di coltias però c'è un problema coltias tipo sei manga quindi non so quale chiedesse nello specifico quest'oggi ragazzi state facendo domande del cazzo allora scrivi di correggo così chiede aspetta un attimo qual è il target di questo manga di coltias che come si chiama regna of darkness shoujo mi sa che forse c'è preso non mi ricordo francamente però mi sa di sì dobbiamo cercare su anime click scusa vedi attimo esatto ha detto herbez sì 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 ma grande cazzo c'ha tipo quattro manga shoujo due sei nel manga shoujo sì 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 proprio completamente casuale bene 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 no mi dissocio pippo tutto potrebbe essere anche vero ma mi dissocio no 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 pippo tutto e poi solo continua non ho ancora mai avuto il piacere o il dispiacere ovviamente per ora noi siamo fazione droghe leggere dai sì no non per ora si spera di sempre perché se no la fine si fa bruttissima chiara 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 bene bene dai allora pareggio non me l'aspettavo siamo già a tre domande ciascuno io me l'aspettavo l'aspettavo bene in full metal alchemist chi sono i cinque sacrifici umani per il cerchio alchemico tipo ma che cazzo se lo ricorda cioè mi piace un metal alchemist ma il cerchio alchemico diciamo della parte finale quello super definitivo ma credo di sì ma vale anche se è di compagno di tutti e cinque no vabbè questa è una domanda specifica diciamo che sono quei cinque quindi basta pubblicità un cazzo magico fai l'abbonamento dovete capire dove deve guadagnare chi io no anche camparci a 250 abbonati facciamo la maratona ragazzi poi magari chiamiamo anche questi stronti di anime di time certo che te ne vuoi privato e scusa simpatia abbonati e da capire perché magari cercando di buttarli a caso qualcuno becco perché non è che sono manco tanti per i personaggi umani di full metal alchemist però di prova prova a buttarli dentro e vediamo se certo la estra di edward non mi ricordo il nome la estra te la do buona anche se non ti ricordi il nome la tipa quella con i capelli biondi dell'esercito vabbè qui c'è vabbè dai diciamo per uno il nome la sottoposta di noi e non mi ricordi i nomi che ti devo dire non la sa ragazzi non la sa non la so no non la so no stavo buttando a casa no non la so ragazzi non la so è per questo che mi piace questo quiz a me ragazzi veniamo vengono fuori i veri espertoni dei manga vabbè non mi posso mai ricordarsi cosa cioè non penso che la conoscenza dei manga si sappia da questi dettagli qui esattamente grazie mille a donatore anonimo che ha regalato l'abbonamento a magico 1997 lo stavo beccando manco uno comunque edward alfos online i zoom in mustang no vabbè 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 i zoom però forse era la maestra di edward non mi ricordo non mi ricordo il titolo non mi ricordo il nome scrivi punto esclamativo telegram magico eh se vuoi entrare su telegram appunto allora quindi italo x ok che ci vogliamo fa succede anche i migliori che migliori ragazzi deludenti e lo so allora vediamo un po parlavamo via di kingdom è arrivata una bella domanda su kingdom da senpai pzm il nome del primo generale che prende sotto la sua la protettrice il protagonista di kingdom li chin io ce l'ho come sfondo del mio cellulare fammelo vedere fammelo vedere non mi ricordo il nome eh no non te lo posso vedere se no te lo ricordi ma mi ricordo chi è lui è quello più è quello fortissimo incredibile con i capelli lunghi con il pizzetto si è lui eh lo so ma non si vede dietro le le applicazioni eh lo so lo so è lui è lui cioè lui me lo ricordo come personaggio non mi ricordi il nome è quello il problema anche perché ci sta sia il nome cinese che il nome giapponese capito ma almeno me ne ricordassi uno cioè lubai lubai liaobao cioè proprio con gli stereotipi diciamo no michele poggi non credo che sia lui secondo me c'ha no secondo me c'ha beccato pippo tutto ha detto piassimo berlusconi mi dissocio mi dissocio assolutamente non è lui no wang ki wang ki wang ki wang ki però è il nome cinese vabbè e quello giapponese eh non mi ricordo tipo hann qualcosa michele mare non credo lol nico portici dubito sergei origia va bene siamo ancora pari però buongiorno fred siamo ancora pari non me l'aspettavo a quanti capitoli siamo arrivati con ajimeno ippo ma a parte mix che questa non è una domanda del quiz è anche una domanda che ti puoi andare a vedere su su bug updates mi sa 1235 oppure che l'ho letto un paio di giorni fa è l'ultimo quindi questo mi viene in mente questo numero però forse non è quello giusto non ne ho la minima idea ma mi dissocio pippo tutto prendete mi dissocio a qualsiasi cosa tu stai scrivendo cioè veramente in generale proprio aspetta eh ora quindi questo è per te giusto si si sai nominare almeno tre personaggi veramente esistiti presenti nel manga i tre adolf questa è troppo facile allora adolf hitler troppo facile ragazzi eh heidi cimler e gebbels cioè voglio dire ma porco dio ma basta qualcuno che ha fatto la terza media per rispondere a questo cioè scusa eh anche perché ci lascia di qui come erano tipo tutti ma è chiaro i generali di hitler quindi basta che ti ricordi un paio ma basta aver studiato il nazismo la seconda guerra mondiale li sai vabbè punto il regalato totalmente a italo vabbè così garo vabbè oh non tutti hanno fatto la terza media no è vero è vero io poi sono una capra a scuola ero una capra a scuola però diciamo era il periodo storico che mi interessava di più quindi va bene certo quello che interessa più tutti quanti alla fine è più controverso guarda che c'è un'altra domanda di merda di stefano roghi per me aspetta un attimo eccolo eccolo trovate in che anno è incominciato e concluso il manga di inuyasha verrà un grande rumico takashi grandissimo rumico takashi naturalmente inuyasha è il suo manga più insulso e quello è poco ma sicuro fermo dalle poche foto che ho visto questo romics mi sembra un sacco povero beh come gente sì però speriamo sempre meglio poi già il romics di suo non è che sia diciamo la più grande fiera d'europa di padiglioni sì sì allora no herpes ti prego non smettere di amarmi anche se la sbaglio sugli anni purtroppo fine anni 90 direi primi 2000 all'inizio diciamo l'inizio 2000 e la fine 2008 tipo un quasi presto 2008 2010 dai facciamo dal 2000 al 2010 herpes dal 96 iniziato concluso 2008 ma donna di notte c'è il beccato però la porca troia è no perché mi pareva forse cominciato poco dopo la fine dinamma eh sì 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 l'indizio di chris dopo la seconda guerra mondiale eh sì grazie chris peccato che non l'ho letto prima l'indizio se no forse ce l'aveva anche sì anche che prima non era neanche viva un mico takashi eh sì eh vabbè ma allora non è un gran fumetto effettivamente cioè è bellino all'inizio ma poi si si perde di brutto no ma secondo me la takashi a parte mesoni koku e parte di ram e la mu diciamo ha fatto per lo più manga molto ripetitivi sì poi ci sono quelli un po più corti tipo i più belli la saga delle sirene sono molto interessanti appunto su stelle corte mentre in nu yasha poi adesso rinne tutte quelle altre robe lì ma anche l'ultima ho letto tre o quattro volumi eh quello non mi sono manco avvicinato che francamente io capisco che lei abbia questo schema che è un po' una gallina delle uova d'oro perché ormai ha il suo zoccolo 2 che la segue c'è impossibile vedere una serie interrotta della takashi anche per 60 volumi però e ovviamente ci fanno sempre degli anime sopra sì 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 a prescindere sa che è arrivata la domanda di dovevo leggere io adesso volevo tu a no io a te questa perché prima me l'hai fatta te quella di noi ascia vero sì allora come si chiama la gang in tokyo revengers chiama una mascotte con un angelo senza testa io questa forse la sapevo per esempio forse porca troia questa non mi ricordo se è quella che fondano dopo il primo cioè nel primo come cazzo si chiama viaggio nel tempo o nel secondo aspetta però aspetta c'è magico che ti ha spoilerato la la risposta no non non leggo io non leggo non ti dobbiamo no vabbè ma intanto lo sospendiamo però sì sì no va sospeso magico magico sei un coglione cioè che ti faccio di spoiler in la risposta in chat sei un coglione aspetta non mi ricordo se era la tenjiku o quella prima e andiamo con la tenjiku dai ci provo è no mi sa che è quella che aveva spoilerato magico forse valala è la vala alla prima la prima questa la sapevo che stanno a sapere ok sei sempre in vantaggio però quante siamo tre sei siamo sei domande fatte a te cinque a me sei in vantaggio di una non lo banno solo perché è sab esatto davide non lo banno perché è sab no in realtà no non l'avrei bannato comunque magari non l'ho neanche detto io di non dire le risposte mi sembrava ovvio e quindi non l'ho neanche detto però non scrivete le risposte in chat cioè se no veramente mi sembrava una cosa talmente naturale da non doverla neanche dire ora vanno insomma ora vanno sono vota come dice chirio pavido che no perché avere dovuto bannarlo ma ma non lo vanno io non sono uno che banna finché ti danno i soldi giustamente mi sembra giusto è arrivata la domanda claire abile cacciatrice di idioma è uno dei protagonisti di quali di quale manga sa che non ha più pari d'idea clemo l'oma demoni a giusto giusto meno male che l'ho letto quel manga di merda no non ha mai detto niente sinceramente ho visto un po l'anime avevo la tipina il manga ma aveva convinto più di tanto allora ti posso dire che io sono molto affezionato perché è stato il manga che mi ha fatto conoscere la mia ragazza un pochino perché gliel'ho venduto a lei non ci voglio credere top money grabber anche nelle relazioni sentimentali aspetta ma prima di conoscere ma grazie a quello ci siamo conosciuti quindi vedi che anche il money grabbing ha la sua funzionalità certo cioè anche i manga brutti poi hanno una loro magari non piacciono a chi galeotto fu clamor esattamente esattamente a lei è piaciuto molto un manga che a lei non è piaciuto se mi stai guardando cara marzia dalla stanza di là a lei non è piaciuto la fenice che gli avevo regalato io tutto intero la fenice cazzo eh qua abbiamo un po di problemi insomma aspetta fammi mettere il mio secondo punto se no mi dimentico che è molto importante eh certo è arrivata ah è arrivata la domanda per italo aspetta ehm leor leor in tokyo ghoul r e andiamo bene sempre parlando di manga di merda non l'ho letto come come è chiamata la malattia che provoca una secrezione eccessiva di cellule rc malattia che ha la sorella di shi razzo ma possiamo trasformare in una risposta a crocette risposta a domande mura domande risposte multiple sarebbe bello eh sarebbe bello però le abbiamo vietate eh non la so non l'ho letto io tokyo ghoul r aspetta aspetta un attimo abbiamo un messaggio della mia ragazza dai cazzo così mi pillano per deficiente però se dici ma no ma no assurdo dal tardata no mi dissocio detta così sembra che leggo solo la merda eh legge tante belle cose sono onesto cioè è una grande fan di chi sei le piace un sacco is she the killer no no guarda che ha dei bei gusti ognuno ha il proprio gusto appunto il proprio range di letture no io penso di fare sia letture belle elevate sia letture molto basse o ovviamente pure brutte è normale è normale ora rivendere la fenice è comunque una cosa un po' sacrilega secondo me però io cioè poi per te soprattutto immagino ci sto insieme lo stesso ragazzi non è che l'ho lasciata eh voglio dire ognuno fa i suoi sbagli nella vita e comunque io non la so perchè non ho letto Tokyo Vulvae SOMMOBOO ti ha fatto l'abbonamento se non vuoi vedere pubblicità pure SOMMOBOOTA ma si rende pubblicità ma veramente la risposta era ROSS dai regalate un abbonamento a a quel poveraccio di SOMMOBOOTA che sta in Inghilterra cena con la regina ogni sera e non può fare una sub a Kirio regalategli una sub che che lo mettiamo nel nel gruppo dai che lo buttiamo dentro al gruppo quindi altra X per il nostro Italo altra che non sapevo no no io l'ho chiesto anche per te fra eh quindi io non faccio razzismo però SOMMOBOOTA che che cena sempre tutte le sere con la regina insomma ok è arrivata la domanda sempre di Senpai PZM che ha regalato anche l'abbonamento a SOMMOBOOTA grazie Senpai PZM benvenuto a SOMMOBOOTA che animale ricorda la cavalcatura di Prime Rose quella che lei cattura da cucciola nell'omonimo fumetto di Tezuka letto anche abbastanza di recente comunque quest'anno che animale ricorda la cavalcatura sì quanto pare cioè una cavalcatura particolare non un cavallo eh è troppo semplice eh sì sì ma se lo prendo e guardo è valido mi sa di no però se vuoi chiedo al notario no no chiedevo per sapere se fosse valido non ho proprio capito la domanda benissimo però che animale ricorda la cavalcatura non credo sia un tacchino Davide eh per cavalcarlo ho dei seri dubbi sinceramente ma è un un Primo Rose era fantascienza no? sì sì era una cosa di fantascienza non posso chiri occhio che non puoi barare come contro di me il papà di Italo è già pronto in tribunale dice Sommo sì 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 è già lì non lo so un maiale un maiale ricorda e se la risposta è sbagliata allora sarà un dio maiale dubito in realtà che possa essere risposta un bambi barra cervo un bambi ragazzi però non è un animale un bambi vabbè un cervo ok ma un bambi vabbè penso per far capire un picco di cervo insomma non sappiamo cosa diceva oppure per far capire la diciamo l'ispirazione tezuchiana che era amante di di bambi va bene siamo comunque due a due cerbiatto si chiama esatto esatto vabbè su quell'apsus ok in che anno è stato pubblicato Seventeen di Bano Yoshimoto in Giappone e in Italia allora in Italia dovrei arrivarci no sì a parte che è per te però se vuoi rispondi tu che no 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 io facevo mentalmente pensavo in Italia è arrivato adesso no? 2021 o 2020 non lo stai chiedendo scusa è arrivato 2021 mi pare in Italia in Giappone non non confondermi non funziona con me questo schema psicologico in Giappone mi pare fino anni sessanta dovrebbe essere quello il periodo fino anni sessanta e anni sessanta però sempre periodo movimento gay io non c'è te Chirio in piedi schiavo sei buffissimo e boh dico sessantasette in Giappone e duemila e oddio c'è il dubbio se è 2021 2021 ok allora per quanto riguarda l'Italia a me mi sembra che sia 2020 porco Dio Giappone 99 perché perché è stato pubblicato come volume nel 99 erano però come storia come pubblicazione su rivista esatto esatto perché quello non lo so perché sono tutte storie di anni diversi mi sa sono tipo comunque raccolte di dieci anni almeno una cosa del genere almeno roba di sette otto anni raccolte poi in volume nel 99 anche perché Yoshimoto nei suoi anni non è che se lo cagassero tantissimo in Giappone vabbè un po' come tutti i gay però ci sono tanti autori di cui noi non sappiamo nulla siamo tre sei sette otto ancora due domande per te e tre per me merda bene 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 questa era difficile io mi ricordavo io non l'ho letto ancora no io mi ricordavo quella italiana ma quella giapponese l'avrei sbagliata anch'io è arrivata la domanda ok come si chiama la madre di Adolf Kaufman nella storia dei tre Adolf poteva chiedermi come si chiamava la cameriera ma che cazzo se lo ricorda ragazzi uno dei soldati che muore nella vignetta 4 del capitolo 2 esatto esatto come si chiamava l'assistente di Tezuka che metteva i rettini nella seconda vignetta del quarto capitolo dai ma delusione totale cosa ma perché te te la ricordi un chilo di goglia un chilo di canale va bene va bene le basi di Kezuka tranquillo Magico sei perdonato per questa volta ovviamente non ho proprio idea c'è ragazzi io mi ricordo i protagonisti Adolf Kamil Adolf Kaufman e baffino di merda baffino di merda però lei vabbè butta qualche nome tedesco Isabel Schweinsteiger che è Yukie tra l'altro lei era giapponese perché lui aveva la mamma giapponese e il babbo tedesco e tra l'altro Yukie ora che l'ho sentito comunque mi è venuto in mente lei perché è un personaggio anche abbastanza importante non è proprio secondario nel manga però vabbè ragazzi lo sapete che siete delle merde no? questo mi pare ovvio mi pare ovvio situazione di stallo ancora Kirio worst conoscitore di Tezuka in Italia Sommo Buta c'è solamente una persona che ne sa più di me di Tezuka in Italia si chiama Madmich allora andiamo avanti con io se sottoscrivo sottoscrivo assolutamente andiamo avanti con con le domande mi sembri molto in forma oggi Kirio pensa quando non sono in forma ok si in Steel Ball Run quanti aspetta che ok no sto cercando di interpretarla quante stadi vuol dire quanti stadi allo stand di Johnny Jostar sì credo che sì quanti stadi di trasformazione penso sì allo stand di Johnny Jostar io se il Steel Ball non l'ho finito è un po' spoiler invece Joe Tyburn e vabbè Joe Tyburn tappati un attimo le ore sì vabbè tanto vabbè alla fine sugli stadi dello stand non è che sia un grosso spoiler esatto provo con tre mi sento fortunato sì anche perché le stadi delle trasformazioni di solito sono sempre sui tre non penso vada molto oltre il tre no dice qualcuno no quattro quattro mi frego sempre con le mie stesse mani c'ho dei ragionamenti davvero pessimi a chi vuole essere milionario mi avrebbe già buttato fuori eh oh eh ragazzi allora facciamo così intanto comunque se volete mandare qualche domanda qualche altra domanda in più magari può servire come riserva se dovessimo arrivare in pareggio altrimenti poi le usiamo anche nei prossimi quiz magari Herbez se le segna da una parte poi me le dice in privato no in realtà no è troppo ho dei mod troppo onesti per fare queste cose sì sì ma intanto io già so come andrà l'ultima domanda siamo ancora in pareggio te la faccio a te e la la zecchi vediamo va beh allora pierre pierre chris dovete mandarle a herbez cooper 89 in privato eh lo sapevo che non me le giravi herbez perché so che sei troppo cioè i miei mod riflettono la mia onestà quindi ragazzi sì sì eh certo l'importante è che te lo dici da solo per forza comunque vi ricordo anche così un passant che siamo 220 abbonati su 250 e a 250 facciamo una piccola maratona grazie ferrari mattia 76 benvenuto tra i capo clan una piccola maratona nel senso che partirò da sei ore tipo poi se vogliono aumentarla sanno come fare per aumentare sanno come fare eh mattia è arrivata la domanda ah non l'avevo vista aspetta mattia punto esclamativo telegram se vuoi entrare nel nostro gruppo ah certo il gruppo telegram di chilo importantissimo allora eh da da google man otaku come si chiama l'agenzia assicurativa dove lavorano mary strife e milly thompson in traigan questo è per te no questo è per te è per me eh eh sì io ho risposto a quella degli stadi di 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 silverman ok ci ho provato ci ho provato allora lo sanno perché siccome loro sono delle merde lo sanno che io ho delle piccole mancanze a livello manga anime e traigan è una di queste ah l'hai letto non ho neanche visto l'anime quindi proprio non non saprei proprio mmm piccole sì delle piccole mancanze no allora Ems non hai capito io ho detto delle piccole mancanze tra i grandi manga nel senso che ci sono alcuni grandi manga che non ho letto e questo è uno ma come un po' tutti alla fine sì sì e quindi non boh non saprei proprio dire a meno che Hitler non mi faccia qualche suggerimento oh benvenuti a tutti i nuovi ragazzi dovrei ricordarmelo io mi raccomando lasciate un bel follow anche cliccate sul pulsante segui non so se la risposta di Herbez sia quella vera bernardelli sì ah è quello? ok bernardelli va bene si presenta una protagonista come agenti assicurative sembra più il nome di 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 un giocatore della nazionale però giocatore scarso di quelli sai i jolly si 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 no la devi allora golden la devi scrivere ai mod quindi a Herbezcu per la domanda e magari un'altra ora perché questa l'abbiamo già vista quale sono le tre manga più stampate tutti i tempi quindi no poi la sappiamo benissimo io Italo va bene allora siamo a sei nove quindi dietro ne manca una sola ne manca una sola per Italo mi concentro no aspetta Stefano Roghi mi sa che ti mancano due o tre nozioni di matematica perché Italo non è vero che si si indovina questo appinto visto che siamo due a due qual è la particolare ossessione di Levi Ackerman di Shingeki no Kyojin e io questa la so per la polizia si è ossessionato dalla polizia cioè quella scena super meme dove c'è lui che pulisce tutto le finestre no non è quella eh si è quella eh si è quella ah ok Cristiano è uno stronzo che mi fa perdere il mio buio ha fatto pigliare la paranoia cioè ah no lo scriveva a me ah 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 perché perché ho detto Levi e non Levi ah 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 ma no dai su piccolezze questa era troppo facile la domanda però veramente si era era facile dai quelle a cui risposte erano tutte abbastanza facili ha ragione Magico punto esclamativo Telegram tutto attaccato Mattia va bene va bene ma a me ci sta eh mi vanno bene le domande difficili il problema è che sempre queste cazze domande su date della minchia e nomi però eh si ma alla fine non posso manco chiedere chissà che cos'altro no no è chiaro è chiaro alla fine si del fatto è peccato va bene posso solo pareggiare per ora quindi vediamo un po' vediamo vediamo questa domanda porca traia no Edgy Dave non ha vinto Isla c'è un'ultima domanda si c'è l'ultima domanda sempre sull'attacco dei giganti da parte di Joe Tybur in attacco dei giganti quanti possessori del gigante d'attacco si sono visti? ah del gigante d'attacco eh eh si sono visti si sono visti si sono visti penso forse di saperlo qui ci devo ragionare un secondo eh ci devo ragionare un secondo anche perché io non mi ricordo bene tutte le cose che ho accontato però vabbè mi butto vai è morbido 3 3 vediamo secondo me 4 dici secondo me si perché esatto esatto mi dice Erwitz vabbè di aspetta di di intanto di quello che sta dicendo io pensavo sai Eren il padre di Eren quell'altro quello che glielo passa al padre eh e poi la progenitrice i mir la progenitrice no in realtà c'aveva il gigante d'attacco lei no lei ce l'aveva tutti no cioè lei è però si va bene ok no non la consideravo lei proprio come gigante d'attacco anch'io pensavo Eren e Grisha e Eren Eren Kruger Eren Jaeger e Grisha Jaeger si 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 quindi abbiamo pareggiato abbiamo pareggiato meno male che mi sono ricordato alla della scena quando li passa Eren Kruger passa il gigante a Grisha se no non me lo ricordavo cazzo meno male nell'anime pure abbastanza recente diciamo si si no ma allora io non mi ricordo un cazzo ma sull'attacco dei giganti ci sono delle scene particolari memorabili che me le ricordo come se le avessi lette ieri rimangono in testa si tipo la rivelazione di Reiner e Berthold io vabbè c'è è troppo bella perché è così improvvisa che dal nulla dal nulla totale dal nulla cazzo e va bene allora intanto Botteglia ha riscattato una alla 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 ma ma adesso cosa si fa ci pestiamo fino alla morte e adesso allora ci sono altre due domande Erbez e così ne facciamo un'altra a te e un'altra a me e vediamo se spareggino spareggino e via oh meno male che cazzo era sull'attacco dei giganti guarda vai Erbez vai allora intanto buttiamo una bella pubblicità così quelli che non si abbonano lo faranno mi raccomando abbonatevi ad anime tea time il miglior canale di informazione sull'animazione giapponese poi anche a video se ci avete altri soldi da spendere tanto guarda l'hai detto mentre c'era la pubblicità quindi va benissimo io sono sicuro che sta attivando comunque il messaggio va bene va bene allora per me se vi abbonate sia a me che anime tea time va bene non c'è problema però sappiate che già questi non fanno un cazzo tutto il giorno io invece sono uno che deve toglierti quel lavoro di merda che ha e campare il switch ma in realtà ci ha aggiunto radici fumetti coreani eh vabbè sì ma di lavoro vero dico io allora ah è giusto il consente allora domanda per italo quindi in quale rivista è pubblicato il manga edito in italia da jpop di comic and communicate comic and communicate oddio rivista giapponese sì avevo capito già tranquillo sì sì anche perché riviste italiane non ce ne so allora sono abbastanza sicuro sia uno shonen mi sembra quello di target mi sembra un manga che possa andare su un altro tipo di rivista su sui visione magazine non penso perché ce l'ho qui non mi sembra di averlo visto su quelle pagine su sunday non mi pare il tipo di pubblicazione di sunday ma 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 non lo so se è tanto facile io no ma anche per tutti, quelli che scrivono in chat è sempre facile vabbè per Federic Manga poi è facile, sì sì ma per tutti quindi se non la so vengo umiliato però si Manga Vibe sicuramente no Mashi ma intendevo riviste che pubblicano manga giapponesi ovviamente sul manga europeo lo so che ci sono anche perché dal prossimo numero di Manga Senpai, quello che sarà in fumetteria in questi giorni ragazzi, ci so anche io con un bel articolo quindi mi raccomando quindi lo trovate in fumetteria e anche su Manga Yo codice Chirio per avere il 5% di sconto e io ci provo quindi Shonen Sunday anche se non mi pare il tipo di pubblicazione che andrebbe su quelle vagi è comunque un manga comico quindi ci potrebbe stare spesso, esatto porco diazzo, ci ho beccato bene alla fine, cioè, le liste importanti Shonen sono tante sì esclusione sì 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 bravo il magazine ce l'ho qui non c'è italiano ragazzi ma io infatti non è che voglio dire prendo gente a caso per partecipare tutta gente di un certo livello sembra così ma in realtà è peggio esatto esatto italo guiziello va bene dai ok vediamo la prossima domanda eh no insomma ce n'è qualcuna in più Chris non è che sono solo quelle quattro sì dico a livello di famose capi sì 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 esatto poi a livello di pubblicazione di riviste si parla di centinaia e centinaia di riviste chiaramente in Giappone yes è arrivata la domanda ok da Siegfried 26 numero di stelle della sfera del drago del nonno di Goku questo si vede all'inizio però giusto quattro mi sa di sì ma lo spero che se no veramente mi pare che era quella ero in dubbio tra i tre e i quattro ok esatto me la male che me la ricordo vabbè allora c'hai bisogno di altre due domande mi andai ancora avanti fino all'estremo allora vediamo queste due se indoviniamo tutte e due queste due o le sbagliamo entrambi finisce in pareggio tanto va bene anche con Caverna era finita in pareggio alla fine ci può stare oppure viene di qua la mia ragazza e ci fa una domanda no forse non sta più guardando sulla Fenice di Tensuka di quale ossessione soffre Death the Kid in Soul Heater la simmetria lui vuole che le cose siano tutte simmetriche infatti c'è tipo le strisce sui capelli che devono essere simmetriche ogni volta c'è sta gag all'inizio forse potevo finire in pareggio già prima era meglio siamo arrivati e alla fine le so tutte cioè non le ho sapute una fino ad adesso veramente ciao Cazzo i manga della miniatura è scienza veramente e io solitamente non l'ho mai letto ancora risposta più precisa vuole sapere Herbert Cooper però attenzione attenzione non lo so non lo so eh lui c'ha l'ossessione che le cose devono essere simmetriche anche tipo il quadro alla parete se è un po' spostato lui lo risposta in modo tale che sia perpendicolare come cazzo di dire simmetrico alla parete sì simmetrico però evidentemente c'è qualche particolare che manca dalla risposta eh ma io non me ne ricordo come si chiama l'ossessione dice Magico eh non lo so ma che cazzo se lo ricorda più preciso più che cazzo un medico io mi devo ricordare le fobie come si chiamano la che cazzo ne so no io te la darei buona comunque sono troppo buona gliela darei buona scrivici comunque come si chiama però io gliela darei buona sì il nome della fobia non me lo ricordo francamente OCPD un'ossessione estrema per qualcosa ah ok 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 va bene va bene mi talo di merda allora è a 5 porca troia dai mi carico un po' parallelofobia diceva cazzo vediamo se la Red Bull mi sente prima o poi e mi fa una bella mi raccomando sponsorizzate Kirio e family friendly ma io non voglio tanto sì a parte che sono family friendly davvero quindi comunque non penso che alla Red Bull poi interessi molto essere family friendly ma che ne so ma a parte quello non voglio tanto io cioè se c'è una cosa di soldi va bene però quello che voglio più di tutti è il frigo il frigo della Red Bull da mettermi qui dietro proprio come effettivamente sembra una svolta il frigo vicino sì 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 ok è arrivata da Pier Tubo da Tropea tra l'altro quanto è stato pubblicato Gon il manga del dinosaurino che non parla sì 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 Masashi Tanaka secondo me è in Giappone dice in Giappone in Giappone in Giappone anni 90 secondo me anche secondo me sta vincendo Italo in questo momento Flavio C per 5 a 4 anni 90 ma te c'hai il telefono attaccato al computer eh sì sì ah ok sento il il Vibrinos vabbè tanto ormai siamo alla fine anni 90 fine o fine anni 80 primi anni 90 facciamo 1900 non voglio dare la risposta cazzo perché so che è la devi dare le domande per Kirio o sono date o sono nomi esattamente quelle che non voleva esattamente 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 c'è non significa nulla al pubblico di quello che vuole Kirio no il pubblico è una merda il pubblico è una merda fine anni 80 primi anni 90 91 dai 1991 dai vediamo 91 no ma non c'era scritto data di fine anche che cazzo stai dicendo no la domanda era soltanto data di inizio eh sì eh quando è stato pubblicato gone no no quando è stato pubblicato gone non c'è scritto il periodo di pubblicazione forse intendo no data di inizio svolgimento e fine sì vuoi sapere anche i minuti in cui sono stati pubblicati cioè vuoi dire sì sì mi devi dire la data di pubblicazione di ogni capitolo 1991 1991 ok l'ha beccata allora no ma che ho letto ragazzi dove l'ho letto ma se non c'è neanche se per leggere dovrei avvicinarmi così io non ci vedo un cazzo sì ho letto no 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 allora abbiamo parcheggiato sì parcheggiato abbiamo pareggiato quindi dimmi tu però se vuoi andare avanti si fa no come vuoi tu a me va bene anche il pareggio in realtà cosa volete un pareggio allora visto che stanno dicendo tutti che sono un baro questa volta facciamo facciamo la domanda con le mani alzate porca puttana dai andiamo andiamo avanti su va bene va bene dai non ci stavo a farmi dare del bar da queste merde assolutamente dai altre due vediamo vediamo un po' tanto io sono in un momento positivo la fortuna forse è dalla mia ora appena vedi la domanda dimmelo che alzo le mani e sto così per tutto il tempo vabbè ma io non ti accuso di niente no ma sai questi qui sono delle merde in Jojo parte 4 come si chiama il possessore dello stand Red Hot Chili Pepper non me lo ricordo allora vedo per quale cazzo era se sfido Jojo lo smolecolo completamente cazzo si Jojo non sa nulla di man no me la ricordo questa ci puoi ci puoi pensare se vuoi no anche a pensarci ci arriverei che poi non mi ricordo a parte i protagonisti non mi ricordo i nomi degli altri personaggi di parte 4 in questo momento cosa è un Jojo no dai penso che stia trollante nulla? no non ce la va ok mi ne mente niente bene aspettiamo la mia domanda a chi l'autorisce non mi ricordavo proprio aspettiamo la mia domanda così dai vediamo hai fatto solo per foto perché sapevi ti hai messo d'accordo con Everett per farmi fare una domanda che sapevi io non avevi potuto rispondere adesso ne sto facendo una a cui sai che puoi rispondere cazzo avrei finita la decima allora dai su no volevi umiliarmi proprio farmi avere questa speranza di vittoria e poi togliermi vediamo se la so ok è arrivata la domanda da parte di Fendi Foglia qual è il manga più lunga di Usamaru Furuya pubblicato in Italia intendi come volumi pubblicati in Italia si immagino come manga più lungo ma non con quanti volumi siano stati pubblicati in Italia eh ok non è che conto le pagine io ti posso contare i volumi nel senso si si no al livello di volumi come numero di volumi è la crociata degli innocenti mi sembra la crociata degli innocenti o dei bambini no la crociata degli innocenti degli innocenti che sono bambini e l'avento storico eh che sono 6 volumi mi sembra altrimenti c'era 51 modi per salvarla che era di 5 eh sì forse Teichi Teichi no Kuni porco dio non me lo sono ricordato quello è vero è vero Teichi is cool eh porca trago ma non me lo sono proprio ricordato perché ovviamente perché non me lo sono ricordato perché è pubblicato è pubblicato dalla Goen io ho perso le speranze dopo 3 volumi e l'ho venduto anche se ora ora sta continuando e lo vorrei recuperare vabbè altre due domande ce l'abbiamo no 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 non si attende no non ho perso Joe Timor ora dopo allora dopo voi dovete capire dopo avermi accusato di brogli andremo avanti fino alla fine fino a quando c'è un vincitore proprio deve rimanere solo uno la maratona doveva essere a 250 ma si può fare anche oggi tranquillamente non c'è problema eh sì se mi paghi volentieri oh madonna io volevo uscire stasera sono giovane ancora vediamo ah tu esci la sera sì io la sera esco ho capito ho capito una cosa particolare bene 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 vediamo vediamo ci sono altre due Erwez va bene allora falle dai dai facciamo no facciamo queste ultime due e poi davvero bacco se sì sì va bene se qualcuno vince se no è un pareggio ed è la vittoria dell'amicizia sì ma ne ho sbagliate anche ne ho sbagliate anche prima con le mani abbassate eh non è che sì faccio cioè eravamo a tre su dieci quindi eccola qui utilizza la mossa kamehameha in dragoball specifichiamo non kamehame kamehameha kamehameha utilizza la mossa kamehameha esatto e chi cazzo è che ti so e poi specificando quella cosa ti ha un po' aiutato però sì amicizia per dire lo so la kamehameha che è quella del kamehameha è quella del genere sì 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 e in che maniera mi hai aiutato allora per non te la posso dire se no ti aiuto anche io è il numero oddio non la sa non la sa non il maestro muten il maestro muten non faceva kamehameha non lo so tu devi dare la risposta e poi si vede se è giusto o no oppure oscar forse no ho capito che kamehameha però non vedi dai un po' non ricordo ma si no bohaci però maestro muten ma maestro muten non lo so perché non ho alternative francamente e non mi ricordo in giapponese com'era è kirio è caverna non credo non credo goten per la porca puttana goten per sbaglio la pronuncia male che cazzo si ricordava io non ho di certo va bene vediamo se so questa ragazzi altrimenti oh già mani alzate che se no qui dai avrete lasci l'ultima per kirio dai davanti da c'è una difficilissima perché non voglio perdere contro trunks ci aggiungono come anche contestualizzazione si ricorda la situazione al tankai quando mi ricordo zero però mi ricordavo che sbagliava la pronuncia ok vediamo la suspense cresce la tensione si taglia con un coltello chris de tuber quale casa editrice è stata indirettamente al centro di una polemica per molestie sessuali la scorsa estate questo è facile allora naturalmente si parla della dello scandalo per palpeggiamenti che era pubblicato da qual è il manga non mi viene il titolo ma è quello degli attrici degli attori che stavo anche facendo mi stava anche piacendo a me si stanno abbastanza bene era molto figo e infatti mi è dispiaciuto un sacco che che non sia stato finito ci ha portato avanti più che altro perché era in dettaglio è arrivato al terzo volume in giappone credo fosse quinto o sesto era actage o actage alcuni lo pronunciavano e però ricordo su la casa editrice mi ha chiesto vero la casa editrice boh la sparo secondo me era kodansha eh mi sa di no eh non so mi sa di no era così la domanda vero la casa editrice c'era scritta si casa editrice ok no shweish era pubblicato su jump no eh sai che mi sembrava troppo scontato jump cazzo jump era pubblicato era facile sì esatto insomma io faccio i video e mi scordo va bene abbiamo pareggiato abbiamo pareggiato basta dai sì va bene va bene così lo accetto lo accetto per forza che vuoi fare vuoi reclamare se te che vuoi uscire devo venire lì a dare fuoco a casa tua e reclamavo così la vittoria vero vero ci sta effettivamente e purtroppo è andata così cioè purtroppo nel senso ha vinto lo sport bravo polvere di stelle crociato assolutamente ha vinto la sportività il rispetto adesso ci fingiamo la mano il pub dov'è ecco oddio no ah vabbè c'è le cose non vabbè vabbè è un po' di merda come ovvio che sia bravo stefano roghi mi raccomando segna i punti che chiediamo sempre a te poi se se c'è da sapere qualcosa ora vediamo se c'è qualcuno a cui fare un raidino vediamo il mio amicone nico pertici il grande nico pertici guarda ti chiedono quando andrai al pub di Dario tra l'altro uno che quando mi invita nel link non è che ci posso andare attenzione è servito per una implicita esplicita richiesta no ma in realtà questa domanda me la fanno più e più volte ma giustamente io non è che mi autoinvito alle serate degli altri non sono il tipo se Dario ha piacere mi invita ci vado l'intero ci mancherebbe no che gli do io ragazzi se non l'invito cioè quello è ancora peggio che autoinvitarsi che un altro così è una bella cosa l'invito cioè voglio dire ma domani sera fate la bitola no domani sera no ok perché Paolo si vuole prendere un attimo di tempo per organizzarsela meglio dovrebbe essere la prossima settimana poi va bene va bene ragazzi io vi mando da Nico e netto e noi con Italo ci vedremo presto in qualche live sicuramente grazie mille per avermi invitato se faccio la maratona sicuramente sarai invitato anche perché ci vuole un po' di aiuto esterno e niente ragazzi salutatemi Nico e vediamo cosa fa cosa sta facendo e niente noi ci vediamo con il live domani credo di lavorare la mattina ma non sono sicuro devo conto no scusatemi lunedì intendevo perché domani vado a vedere una mostra a Firenze se torno in orario decente magari una live tranquilla la facciamo domani sera ragazzuoli ci vediamo alla prossima un bacione a tutti ancora grazie e ciao 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 ragazzi ciao